L'associazione Siamo Taranto, armata di tanta buona volontà, prima ancora che di guanti, di bustoni, di carriola, sta pulendo tutta la zona di via Mediterraneo, compresa tra il Tramontone e il Monrevo, un'azione preziosa di supporto rispetto al ruolo istituzionale di Chima Ambiente. Una giornata di caldo torrido, ma dalle 18 avete raccolto di tutto di più. Sì, tutto ciò che abbiamo trovato abbandonato. Ecco, vedete, chiedo proprio al mio operatore, guardate quanti sacconi sono stati raccolti. Abbiamo trovato una fondizia di cose abbandonate, di tavole di legno, non ricordo, ma di tutto abbiamo trovato e soprattutto il vetro. Questo vetro che poi verrà smaltito con la raccolta differenziata. Personalmente, me li porto ora in macchina, tutti questi sacchi e appena arrivo a Taranto 2 ci sono i carri cassonetti gialli senza andare all'isola ecologica e li svuoto nei cassonetti gialli. Prima comunque andavo anche all'isola ecologica, però non ho mai raggiunto il mio tot di peso e quindi avrò diritto anche allo sconto sulla spazzatura. Un esempio da seguire. Sì, infatti anche le signore dell'isola ecologica mi conoscono, ho portato tonnellate di bottiglie di vetro. Diciamo che Chima Ambiente, persone come lei, dovrebbe premiarle. Sì, infatti avrò... No, parlo di un premio morale, un premio morale che vale più del risparmio diciamo sulle tasse insomma. Io proporrei una gara. Un esempio a vedere chi è più virtuoso. Chi raccoglie, che so, un tot chili. Il più riciclune. Sarebbe uno stimolo secondo me, tutte le persone perché dove c'è il premio o qualcosa che si vinci io penso che... Uno stimolo. Esatto.